A proposito di donne multitasking, vi do appuntamento venerdì alle 12.30 in diretta con Laura Pompeo a Sognare Si Può. Laura Pompeo è assessore al Comune di Moncalieri, con deleghe alla cultura, al turismo, alla biblioteca, ai teatri, alle pari opportunità, relazioni internazionali. È presidente del sistema bibliotecario dell'area metropolitana di Torino, parliamo di 70 biblioteche, è consigliere di aree protette popie montese, si occupa del territorio, è anche un'autrice. E parleremo quindi anche del suo libro, Da Casa Con, parleremo dei suoi progetti, dei suoi interessi, parleremo di un sacco di cose. Seguiteci, Sognare Si Può, in diretta Facebook, potete seguire i podcast su Spotify, su YouTube, su Spreaker, dove volete, perché sognare si può. Ciao!